hello guys bentornati qui nel mio canale io come sempre sono il vostro olimpico 900 ragazzi prima di cominciare con il video di oggi vi invito a lasciare un like alla pagina facebook trovate il link in descrizione ragazzi per rimanere aggiornati su tante tante cose molto bene tanto per cambiare ragazzi oggi parleremo dello speciale che andrà in onda l'otto ottobre più specificatamente ragazzi dell'episodio 109 sappiamo per certo ormai che in questo episodio goku lancerà la sua genki dama contro gira nel grigio scusate se ogni tanto leggo ragazzi ho preso un po di appunti perché sono veramente tanti spunti appunto e su questo evento ragazzi abbiamo tutti quanti ipotizzato varie e varie teorie del tipo gira nella respinge goku la sorbe goku spacca tutto e vince il torneo insomma tutto il web si è scatenato sbizzarrito con mille mila teorie diverse io invece ragazzi ho cercato di fare un'analisi molto più concreta molto più cinica diciamo molto più realistica per quanto diciamo possa esserlo perché poi in effetti pur sempre di teoria si tratta poiché non conosciamo effettivamente il contenuto di tutto l'episodio 109 per fortuna per fortuna perché niente spoiler allora come ben sapete ragazzi nel mio vecchio video ho spiegato che secondo me la genki dama ragazzi sarà il la causa che permetterà a goku di ottenere una nuova forma un po come perché secondo me ragazzi la sorbe all'interno di sé un po come accade nel film dei tre super saiyan dove per sconfiggere numero 13 goku assorbe l'energia non tanto per riuscire a sconfiggerlo in sé ma perché trasformato in super saiyan e avendo un cuore colmo di rabbia non sarebbe riuscito a sferrare l'attacco ed è proprio qui che volevo arrivare amici miei la sfera genki dama colpisce solamente chi non ha un cuore puro come ci viene detto dallo stesso goku durante la saga dei saiyan in dragon ball z dove appunto lancia una piccola sfera genki dama contro gohan dicendo di stare tranquillo perché lui avendo un cuore puro sarebbe riuscito a respingere poi contro vegeta e così effettivamente è stato ecco secondo questo principio ragazzi jiren riuscirà a respingere la sfera genki dama poiché lui non ha un cuore primo pieno di malvagità tutt'altro ragazzi vicino è un combattente della giustizia fa parte di un gruppo di guerrieri che difende la giustizia nella propria nel proprio universo nella propria galassia ragazzi quindi è difficile credere che jiren possa subire il colpo della genki dama anzi è molto più probabile appunto avendo sicuramente un cuore puro ragazzi che non è un cattivo riuscirà a respingere al mittente la genki dama e lì io mi sono domandato ragazzi possibile mai che goku non si renda conto dell'avversario che l'avversario che si trova davanti ai suoi occhi non ha un cuore cattivo ma bensì ha un cuore puro ovviamente no ragazzi goku sa perfettamente che jiren non ha un cuore malvagio ecco perché appunto decide di lanciargli contro la sfera genki dama e voi mi direte ma perché cioè così è pazzo no ragazzi è perché lanciando la sfera genki dama contro jiren sa che gira la rimanda indietro e per lui rimane molto più facile assorbire il potere della sfera e svelare così in questa mania ragazzi diciamo una tecnica segreta che comunque a livello canonico ragazzi ancora non si era mai visto perché comunque appunto quando assorbe la genki dama nel film i 3 super saiyan ragazzi si parla pur sempre di un film pertanto non canonico allora prendo ancora qualche spunto ragazzi la seconda ipotesi ragazzi è che la toei se ne sbatta il ciufolo della regola del cuore puro e quindi magari farà incassare e agire nella sfera genki dama che comunque non lo sconfiggerà però intanto gli fa assorbire un danno questo secondo me ragazzi sono onesto se la toei fa una cosa del genere perde quei pochi punti cioè sono già non ha tantissimi punti a favore ultimamente io sono molto preoccupato come già detto in un vecchio video di come verrà gestito il tutto quanto mi sono un po accalmato perché poi leggendo nel web altra gente ho elaborato altre teorie sul proseguio dello scontro ma se anche da toei manda a puttane questo qui ragazzi c'è nel senso proprio l'unica regola che sappiamo per certo è così viene detto nel manga anche quindi deve essere così per forza e sinceramente ragazzi non riesco a trovare un altro senso a lanciare la sfera genki dama contro gira se non quella di un tornaconto personale proprio per goku quindi io sono molto fiducioso anzi sarei pronto a scommetterci dei soldi che secondo me andrà esattamente in questa maniera lanciare la sfera genki dama gira la respingerà goku l'assorbirà e sbloccherà una nuova forma temporanea ragazzi vi ricordo che sarà temporanea secondo me poiché più che una vera e propria trasformazione ragazzi si tratterà di una nuova tecnica che appunto in maniera canonica ancora non si era mai vista e però ragazzi alla fine fine posso sbagliare anch'io magari a ragione chi ha ipotizzato altre mille mila teorie diverse però io aspetto l'episodio 109 proprio per vedere anzi più che altro l'episodio 110 per vedere se ho avuto ragione io magari ha avuto ragione il resto del web intanto ringraziamo il cane per aver così essere piombati a 2000 durante la registrazione comunque sono molto curioso di sapere anche la vostra opinione quindi ragazzi scrivete qui sotto nei commenti se siete d'accordo con me o magari se avete un'idea diversa su come si svolgeranno i fatti nell'episodio 109 barra 110 che ricordo andrà in onda l'otto di ottobre detto questo ragazzi vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto condividetelo parlatene con i vostri amici iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo al prossimo episodio hello guys ciao